Mercedes classe S, l'ammiraglia per eccellenza, la nostra a dir poco è fantastica, S320 CDI, perfetta in tutto, praticamente pari al nuovo, con soli 79.000 km tagli andati, praticamente per questo 6 cilindri Mercedes è un nulla di opzional, su una classe S c'è di tutto e di più, cambio automatico, navigatore, interno in pelle, pari xeno, airmatic dual control, soft close, retrocamera, bluetooth, cruscotto in pelle, cruise control, tendine elettriche, sedili regolabili elettricamente con memoria e il mondo altro ancora. Is this how you play the game? Giving your hand away? When I'm all in and steal your own that dies, and I'm your sacrifice. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.